Radio Nostalgia presenta Comunicare Bene Buongiorno, io sono Giancarlo Fornei, il vostro coach per la crescita personale in onda ogni giovedì mattina alle 10.30 in punto qui da Radio Nostalgia con la mia trasmissione motivazionale Comunicare Bene Come al solito gli argomenti sono quelli inerenti alla crescita personale ma oggi, e oggi sono eccitatissimo, permettetemi di parlarvi del mio ultimo, ultimissimo libro si intitola Come vivere alla grande ed ormai siamo in dirittura d'arrivo, solo pochi, pochissimi giorni, al massimo una settimana all'uscita, la pubblicazione ufficiale del mio nuovo libro il cui sottotitolo è 9 consigli per imparare a vivere alla grande la tua vita e goderla al massimo 9 consigli diventati anche i capitoli del libro 178 pagine nelle quali ti spiego perché la vita è meravigliosamente bella e la felicità molto più alla portata di mano delle persone di quanto possano mai immaginare 178 pagine dalle quali sprizzano passione e gioia di vivere 178 pagine nelle quali dispenso consigli sul come definire obiettivi, smettere di aver paura di sbagliare, provare a sorridere di più sul come essere un po' folli, continuare a imparare, donare qualcosa agli altri, apprezzare di più quello che la vita ci ha già dato ti ha già dato ed ancora sul come sognare in grande ma agire in piccolo e aggiungere passione alla propria vita 178 pagine nelle quali mi metto letteralmente a nudo dove non mi vergogno di raccontarti i miei mille errori, i miei mille problemi lo faccio perché voglio che tu sia più fortunato di me ed eviti di commettere i miei stessi errori e sarebbe bellissimo se tu ci riuscissi lo faccio perché voglio che tu capisca che la vita è meravigliosa e vale la pena di essere vissuta intensamente ogni giorno partendo dall'apprezzare un po' di più ciò che si ha già come ogni scrittore che ha appena finito di pubblicare il suo ultimo libro credo che questo sia il più bel libro che abbia mai scritto ma naturalmente l'ultima parola aspetta a te pubblicherò il libro con la piattaforma youcanprint.it e nel giro di poche settimane sarà in vendita su ben 29 store online Amazon, Il Giardino dei Libri, La Feltrinelli, IBS, Bull, Libreria Universitaria, Dean's Store, Hopli solo per citare i più famosi troverai come vivere la grande anche in oltre 1350 librerie italiane e 9 librerie IBS sparse in giro per Italia ma il libro avrà un suo codice ISBN e potrai ordinarlo anche dalla tua libreria personale dalla tua libreria sotto casa da quella preferita insomma ma laddove tu non volessi perdere tempo e volessi riceverlo comodamente a casa per posta con una mia dedica personalizzata puoi ancora prenotarlo scrivimi a info-giancarofornay.com oppure chiamami al 392 27 32 911 e io ti manderò tutte le indicazioni per poterlo ricevere comodamente a casa tua tra l'altro se lo prenoterai a info-giancarofornay.com oltre a riceverlo a casa comodamente con una mia dedica riceverai nel pacco anche un buon omaggio del valore di ben 5 euro che potrai usare per acquistare qualsiasi altro mio info-prodotto allora mi raccomando info-giancarofornay.com naturalmente puoi prenotare tutte le copie che vuoi e se mi farei sapere a chi vuoi regalarle scriverò personalmente per te una dedica su ogni libro in chiusura di questa trasmissione voglio ricordarti che sto preparando un tour di conferenze che gira l'Italia proprio per presentare il libro ti va di aiutarmi ad organizzare una conferenza anche in Toscana magari nella tua città? se sì non devi far altro che iscrivermi nuovamente a info-giancarofornay.com oppure chiamarmi al 392-27-32-911 e io ti dirò quali sono tutte le indicazioni ti darò meglio ancora le indicazioni per organizzare una conferenza al meglio anche nella tua città non mi resta altro che salutarti ringraziarti dell'attenzione e darti appuntamento al prossimo giovedì qui su Radio Nostalgia 10.30 puntuale mi raccomando